Ci sono due questioni sulle quali noi non abbiamo condiviso l'impostazione e cioè la presenza contemporaneamente del Presidente di Municipio eletto direttamente dal popolo e la presenza contemporaneamente dell'Aggiunta Municipale come organo insieme al Consiglio Municipale. C'è chi ritiene che si possa fare a meno dell'Aggiunta Municipale in presenza dell'elezione diretta del Presidente di Municipio e c'è chi ritiene, come me, che se c'è l'elezione diretta del Presidente di Municipio ben venga un organo collegiale che gli eviti di essere, avendo lui un'elezione diretta, quasi unico organo decisionale e amministrativo del Municipio. Il decentramento municipale, la composizione di giunte amministrative per ogni municipio che sarà composta al massimo da quattro assessori e il numero dei consiglieri sono stati al centro dell'Assemblea Costitutiva della Nuova Pescara riunita per l'approvazione dello Statuto provvisorio che per legge regionale dovrà avvenire entro la fine di settembre. Altro tema di divisione e discussione, come ricordato dal Presidente della Commissione Statuto Enzo Fidanza, la denominazione del nuovo soggetto che verrà fuori dalla fusione dei tre comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, unico punto fermo, il numero dei municipi che saranno quattro, Montesilvano, Spoltore, Castellammare e Pescara-Portanuova. Nel corso dell'Assemblea è andato in scena il primo atto di forza. Sono infatti passati tutti gli emendamenti presentati da Montesilvano e Spoltore, a cominciare dal voto sull'emendamento 2 riferito al nome del nuovo soggetto. Con 23 voti favorevoli e 37 contrari è stato bocciato l'emendamento 2 che prevedeva la denominazione Pescara per il nuovo comune e non nuova Pescara, così come indicato nel corso del referendum consultivo del 2014. Approvati anche gli emendamenti sulla composizione di giunte amministrative per ogni municipio e sul numero dei consiglieri, che saranno 16 ciascuno per i due municipi di Pescara e quello di Montesilvano, e 12 per Spoltore. I consiglieri di Pescara avevano invece chiesto una riduzione del numero proponendo 14 consiglieri per i municipi di Pescara e Montesilvano e 10 per quello di Spoltore. Dei 20 emendamenti presentati ne sono stati approvati 4, gli altri sono stati ritirati o assorbiti. Lo statuto così emendato però non ha ottenuto i voti necessari per l'approvazione, non sono stati infatti raggiunti i due terzi dei voti, ovvero 50 su 75. Presenti 51, favorevoli 36, contrari 13, astenuti 2, la votazione è infruttuosa perché non raccoglie i 50 voti, cioè i due terzi dell'Assemblea. Pertanto l'Assemblea sarà riconvocata come deciso già dall'Ufficio di Presidenza per martedì 12 settembre alle ore 17 per la sola votazione. Da martedì però sarà necessaria solo una maggioranza relativa e di voti favorevoli ne basteranno poco meno di 40, in sostanza quelli dei consiglieri di Montesilvano e Spoltore che si sono già dimostrati compatti contro le richieste dei consiglieri di Pescara.